Ciao, bentornati o benvenuti sull'aero del pensiero non lineare. Sono la dottoressa Di Maio, psicologa clinica, ed anche oggi sono qui con voi per continuare un po' insieme questo viaggio alla scoperta della psicologia. Anche oggi infatti faremo un viaggio insieme, saliremo sull'aero del pensiero non lineare, per conoscere più nello specifico qualcosa che concerne la nostra psiche, il nostro mondo interno, la relazione funzionale o disfunzionale che possiamo avere con gli altri o con un qualcosa che può anche, come breve vedremo, essere un mezzo che ci mette in relazione con l'altro. Ho deciso infatti per il viaggio appunto di Erno di dedicare questa tappa ad un tema che per me è molto importante e fondamentale. È un qualcosa che ho trovato da sempre interessante da quando già anni e anni fa ho cominciato lo studio e mi sono approcciata allo studio della psicologia. Successivamente questo tema che in realtà è il cibo, per così dire, quindi una macro categoria che poi appunto è molto ampia, molto sfaccettata ed è qualcosa di molto più complesso rispetto a quanto siamo portati lì per lì ad immaginare. Ha quindi interessato sempre di più poi quella che sono diventata come clinica ed infatti poi nella mia pratica clinica, quindi nella stanza dei colloqui quando faccio le mie consulenze ho visto che in realtà il cibo è spesso al centro di tante sfaccettature dell'animo umano, di tante psicopatologie, quindi è molto di più di un semplice qualcosa per così dire che serve magari a sopravvivere. Pertanto quindi facciamo una cosa, trovate il vostro posto sull'aereo del pensiero non lineare, allacciate le cinture e partiamo insieme per una nuova tratta di in viaggio con la psicologia. Oggi quindi prenderò un pezzo per così dire di uno studio che poi ho portato avanti, proprio perché come dicevo il cibo ha sempre attratto un po' la mia attenzione e in particolare quindi poi mi sono dedicata nel tempo anche ad un fenomeno social molto in voga che è quello del mukbang. È un fenomeno che non nasce in occidente ma arriva dalla Corea ma ormai adesso è uno dei tag maggiormente cercati online, però nello specifico oggi non parleremo del mukbang ma parleremo un po' dell'incidenza del dca nella fascia d'età che è quella dell'infanzia e della tarda adolescenza. I disturbi del comportamento alimentare sono delle affezioni psichiatriche e psicologiche che hanno gradatamente assunto negli ultimi decenni un rilievo clinico sociale di notevoli dimensioni. La difficoltà per certi versi nel parlare di alimentazione e del rapporto funzionale o disfunzionale con il cibo risiede nel fatto che il modo con cui una persona si rapporterà con il cibo stesso risiede anche largamente nelle primissime esperienze che l'essere umano fa con l'alimento. È fin dalla nascita quindi che molto di come ci rapporteremo al cibo è se non deciso almeno altamente indicizzato. Il momento del passo è un momento molto delicato e altamente simbolico. Quando la mamma ad esempio all'atto nutre il neonato non va solo a soddisfare un bisogno primario atto alla sopravvivenza del bambino ma attua un processo di scambio di cure e affetto. Un processo che farà sentire il bambino al sicuro e accolto. Il cibo diviene quindi il tramite, il mezzo all'interno dello scambio che avviene in una viade che si situa come un qualcosa di caldo e confortevole. Questo è un punto molto interessante perché basta osservare semplicemente, non di rado capita di vedere mamme, padri, zii, fratelli che magari stanno nutrendo un neonato però con grandi disinteresse. Viene dato il cibo pensando e parlando di altro senza focalizzarsi invece su quello scambio così importante che sta avvenendo. Mangiare, alimentarsi non è solo sopravvivere, è qualcosa di più. Durante l'infanzia quindi il modo con cui sarà presentato per esempio il cibo al bambino lo aiuterà ad interiorizzare un certo tipo di relazione, emotività, cibo. La componente emotiva gioca un ruolo fondamentale ma l'emotività in atto, attenzione, è anche quella materna e di tutta la famiglia coinvolta. Non di rado molte famiglie mi raccontano magari di giungere al momento del pasto condiviso che di solito è la cena in cui sono presenti tutti ma sono stanchi a causa di tutti gli impegni giornalieri oppure ci sono dei genitori che hanno metto in atto una vera e propria lotta con i propri figli perché magari non vogliono mangiare un qualcosa che di solito sono le verdure. Durante i nostri incontri una madre mi riferiva di non riuscire a gestire più i bambini perché odiavano fortemente queste verdure. In realtà però anche alla donna e al suo marito le verdure non erano così tanto gradite per così dire pertanto con la scusa dei bambini tutta la famiglia riusciva ad evitare il consumo di questo cibo così temuto. Inutile dire che l'intera famiglia era in sovrappeso. A tal proposito l'IS, l'Istituto Superiore di Sanità, tiene conto aggiornando di continuo le informazioni legate alla mappa dedicata ai servizi sui disturbi alimentari. Oltre alla mappatura delle strutture presenti sul territorio nazionale ciò che è importante citare concerne un censimento che è stato effettuato nel mese di marzo 2022 che riferisce ai seguenti dati. Risultano in carico al 65% dei centri censiti, quasi 9.000 utenti, 8.947, prevalentemente di genere femminile, 90% rispetto al 10% dei maschi. Il 58% degli utenti ha tra i 13 e 25 anni, il 7% meno di 12. Rispetto alle più frequenti diagnosi l'anoressia nervosa è rappresentata nel 36,2% dei casi, la bulimia nervosa nel 17,9% dei casi e il disturbo da bingio nel 12,4%. Sono diverse le informazioni che meritano la nostra attenzione. Innanzitutto durante la pandemia, come evidenzia Laura della Ragione responsabile Rete Disturbi Comportamento Alimentare Usul 1 dell'Umbria, c'è stato un massiccio aggravarsi delle persone che già precedentemente soffrivano di un disturbo alimentare. Le cause del peggioramento sembrerebbero essere dovute al prolungamento dell'attesa per accedere ad un ricovero, il che ha comportato un aumento della cronicizzazione del disturbo o anche una ricaduta nel disturbo stesso. Va inoltre tenuto conto del fatto che i giovani si sono trovati immersi in mondo online per un numero di ore cospicuo e che le ha esposti all'incontro con i vari fenomeni social, primo fra tutti quello delle icone fit o del mukbang stesso. Bellezza e canon estetico dominante sono costrutti altamente labile, che si esauriscono quasi nel loro stesso generarsi. Nel corso degli anni infatti ciò che è socialmente considerato come giusto in termini di peso, taglio e forma varia notevolmente. Siamo passati, prendendo come punto di riferimento l'inizio del nuovo secolo, il 2000, dall'imposizione dell'estrema magrezza come sinonimo di bellezza a tutti quei fenomeni recenti nati soprattutto con la diffusione sempre più massiva di piattaforme come Instagram di Body Positivity. Ciò che sembrerebbe accomunare i due fenomeni che propongono canoni di bellezza che si trovano all'estremo è che nessuno dei due si preoccupa veramente di veicolare come unico messaggio quello della salute, intesa come prendersi cura di se stessi, punto che non è strettamente legato alla bellezza in quanto tale. Sono soprattutto gli adolescenti a trovarsi esposti a tali messaggi che arrivano loro in maniera prepotente, in quanto i giovani si trovano a causa delle delicata tappa di sviluppo sguarnenti di donne e modalità di difesa atti alla comprensione di ciò che vedono. È in sostanza difficile comprendere quale messaggio sia giusto e quale no, soprattutto cosa sia vero e cosa no. L'adolescenza è una fase caratterizzata soprattutto da profonde trasformazioni riguardanti il corpo, sia in termini di immagine fisica che sessuale, dal significato che l'adolescenza assume in termini sociali per il gruppo sociale di appartenenza, ma soprattutto per il difficile processo di separazione e individuazione che il giovane adolescente deve compiere, separandosi dagli oggetti genitoriali per raggiungere e definire la propria identità, così come Carla Candelori ci ricorda. Ne deriva che possiamo ipotizzare che un ragazzo ricurra alla visione all'uso di queste piattaforme online per cercare sollievo dal proprio bisogno di autoaffermazione, immerso, come si trova, nel marasma delle numerose domande che il dilemma identitario chi sono io gli pone, essendo l'adolescenza la fase del ciclo di vita caratterizzata dalla ricerca di risposte a questa specifica domanda. In questo continuo e prestante bisogno di risposte, l'adolescente che si trova esposto a contenuti carichi di disinformazione non ha altra strada se non credere a ciò che vede, per il semplice fatto che lasciato solo, senza filtri, senza guide, sente quasi il bisogno di credere che quel messaggio sia giusto per sentirsi parte di qualcosa. I vari gruppi che nascono si formano dietro alle icone fit, ne sono un esempio. Molte delle maggiori influencer che diffondono contenuti che ritengono salutari hanno creato delle community molto accanite. Sarà capitato a tutti di vedere numerosi shorts online in cui si condividono le colazioni sane, condivisioni fatti senza avere un'adeguata però informazione in ambito nutrizionale, che costano fortemente con l'altro tipo di contenuti condiviso da chi invece fa del proprio sovrappeso, se non obesità, oggetto di fierezza. Colazione a base di cibi pronti dei vari fast food ne sono un altro esempio. Un altro interessante punto da considerare quando si parla di bambini e adolescenti esposti ai contenuti social concerne lo sviluppo del proprio io. Come Jean Lantegleux ricorda, non si tratta solo dell'intensità, dei sentimenti o delle pulsioni ad interessare l'adolescenza, quanto piuttosto l'evoluzione dell'io e del superio. Ne deriva che se durante l'infanzia l'io del bambino piccolo è così poco evoluto da avere bisogno di un mio ausiliario, quello materno, preso in prestito per padroneggiare i conflitti interni ed esterni, essendo che il superio come istanza autonoma nella maggior parte dei casi non si è ancora consolidato, l'adolescente ricerca un io che ha molte più vie e mezzi per venire a patti con gli estinti. Un io che in questo caso è trovato su ciò che in quel momento il giovane sente come più vicino, il cyber spazio. Motivo per cui, come poi ho successivamente diciamo evidenziato, ma in questo momento il viaggio però giungerà al termine, è in questo momento che va poi preso molto in considerazione una possibile correlazione tra l'ICA e il mukbang. Diciamo che per oggi il nostro viaggio giunge al termine. Sono però molto interessata a sapere un po' la vostra opinione. Come ho detto anche nell'ultimo viaggio molti ragazzi, molti giovani seguono il canale, ma anche adulti diciamo che abbiamo molto piacere di sapere che il canale è molto trasversale tra le varie fasce d'età, quindi sarebbe molto interessante magari poter anche creare un dibattito, una conversazione tra di noi per capire un pochettino che cosa ne pensiamo di questo fenomeno, che sia del mukbang o anche un po' del fenomeno legato all'incidenza che può avere nella nostra vita la visione di un contenuto social, quanto siamo esposti al mondo social, quanto sappiamo schermarci dai contenuti che vediamo, quanta presa su di noi, adesso siamo quasi vicini all'estate e già cominciano ad esserci noi nuovi post legati al corpo perfetto ad esibire al mare o dall'altro lato al body positivity e quindi a tutto quella il filone che invece dice che è bello perché il discorso è quello essere magari grassi ed essere fieri di poter andare al mare con un certo corpo ma tutto questo corpo al centro e noi dove siamo, dove siamo finiti, dove è il nostro mondo interno, come ci sentiamo e come stiamo veramente. Allora ci lascio con questa domanda, come sto? Se volete potete rispondere, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, io con molto piacere ho guidato l'aereo di viaggio con la psicologia, però mi raccomando non slacciate le cinture o comunque slacciatele, ma non allontanatevi troppo perché partiremo entro breve per una nuova tratta e per un nuovo viaggio in viaggio con la psicologia. Alla prossima allora, ciao!